Dai tributi all'ambiente urbanistica, dai disservizi in campo sanitario al pubblico impiego, queste solamente alcune delle tematiche per le quali i cittadini possono rivolgersi al difensore civico regionale, una figura istituzionale nata con l'obiettivo di aiutare in modo gratuito i cittadini a risolvere le controversie con la pubblica amministrazione e che questa mattina è stata presentata anche ad Arezzo. Il difensore civico, Lod Munsen, secondo la tradizione scandinava, è colui che in qualche modo con flessibilità e elasticità di fronte all'apparato della pubblica amministrazione si propone come il soggetto che aiuta i cittadini. In Italia c'era perché se ne erano dotati tanti comuni, tanti province, ma nel periodo del spending review, ovvero del taglio della spesa pubblica, addirittura in una legge finanziaria con un emendamento passò il taglio e l'impedimento di costituire difensori civici a livello comunale e provinciale. Rimase e è rimasto nella legislazione italiana quello regionale. Naturalmente però quello regionale ha bisogno di una rete sul territorio. Con questa iniziativa andiamo a farlo conoscere nei territori e con le convenzioni rispettivamente con le amministrazioni provinciali, apriamo uno sportello, un punto di riferimento, lo abbiamo già fatto a Pistoia, oggi lo facciamo ad Arezzo. Un punto di riferimento così da permettere ai cittadini, soprattutto le associazioni del volontariato, l'associazione dei consumatori o soprattutto gli utenti diretti, i cittadini, anche anziani, che così possono trovare un punto di riferimento, un servizio di prossimità per la istanza di un malfunzionamento della pubblica amministrazione. Ad Arezzo lo sportello di difesa civica locale troverà un suo spazio all'interno del palazzo della provincia. La provincia mette a disposizione un ufficio, che è quello dell'URP, quindi del personale, in modo tale che i cittadini potranno recarsi in maniera più comoda presso la nostra provincia, portare le loro istanze e il cittadino verrà guidato sia per le procedure che dovrà effettuare, sia per presentare l'istanza che poi sarà la provincia stessa a mandare al difensore Scefio. Quindi sarà un agevolatore.